Allora, prima lezione dedicata all'età giolittiana. In questa prima lezione vedremo l'entrata in scena di Giovanni Giolitti e dunque vedremo gli anni che precedono i governi che caratterizzano la storia dell'Italia liberale per quanto riguarda i primi 15 anni del Novecento. Dunque oggi vedremo gli ultimi anni dell'Ottocento, gli anni della crisi, da dopo Crispi, da dopo la scuola di Adla, da dopo le dimissioni di Crispi, sino al primo governo Giolitti. Dunque vedremo appunto quei 7-8 anni che vanno dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento. Sono degli anni cruciali per quanto concerne la storia d'Italia. Sono gli anni appunto che segnano anche il passaggio dell'Italia verso la modernità. Nel senso che sono gli anni della rivoluzione industriale italiana, sono gli anni anche proprio della crescita industriale. Gli anni in cui l'Italia, paese contadino, analfabeta, prova a crescere, crescere come scolarizzazione, crescere come industrializzazione, come via delle comunicazioni. Dunque un'Italia alle prese con il passaggio di secolo molto molto delicato. Il passaggio di secolo è delicato ovunque perché le monarchie liberali, le repubbliche liberali, le democrazie neonate da poco hanno forti difficoltà a gestire l'ingresso in scena delle masse. Dunque la storia di massa, la belle époque, sono periodi estremamente complessi proprio perché c'è dinamismo, c'è cambiamento, c'è crescita industriale, sociale, c'è movimento, movimento appunto culturale, c'è fermento. E anche la nostra Italia, paese mediterraneo, paese cattolico, paese di recente unificazione, si trova alle prese con dei passaggi appunto molto 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 delicati. Va bene? Vi accendi scusa la luce perché il video è molto buio. Questa età di crisi, dunque fine ottocento, prima del novecento, è l'età di inizio della futura età giolittiana. Cioè noi assistiamo ad un passaggio significativo in Italia dalla crisi di fine ottocento, prima del novecento, alla età giolittiana. L'età giolittiana, lo dice già il nome, che ruota intorno alla figura carismatica, nonostante sia un uomo comunque silenzioso, un uomo dal carattere mite, uno può essere carismatico nella mitezza, può essere carismatico nell'essere anche moderato. Intorno alla figura carismatica di Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti sarà dunque un grande protagonista della trasformazione italiana, della modernizzazione italiana, ma anche dell'Italia che va in guerra. Sarà un protagonista tra luce e ombre, ministro del progresso o ministro del malaffare. Già all'epoca ci saranno interpretazioni sul suo operato diversissime. Salvemini lo considererà una sorta di malfattore, corruttore, che ha avuto contatti con anche la mafia, un modo di governare non limpido, non corretto, non cristallino, ma un uomo di compromessi al punto di scendere a patti anche con organizzazioni criminali o scegliendo anche modalità appunto di relazione politica fatta di accordi sotto banco e dunque di malaffare. Altri invece esalteranno Giolitti come figura appunto storicamente importante, come figura centrale nell'Italia, come figura... Ah, è andato via perché va via dal mio computer. Come mai va via dal mio computer? Non si sa, c'è da collegare. Non vedo più niente io. C'è? C'è? Dove... Radu poi? Vieni tu Radu poi. Appari nel video, Michele. Ok. Gioli. Cos'è devo fare? Non c'è, 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 non c'è. Ah, bravissima, perfetto. Ok, qui viva tutti. Sarà appunto la figura di Giolitti, tra luce e ombre, a caratterizzare l'Italia nel primo decennio abbondante del Novecento. Va bene? Vi dicevo, età di modernità, età di mutamento, di cambiamento, età di scontro, di scontro sociale, tra conservatori e progressisti, età di fermento sociale, nascono le organizzazioni sindacali, prima dei braccianti, poi degli operai, dei metalmeccanici. Nasceranno le organizzazioni, dunque, dei lavoratori, nasceranno le organizzazioni della Confindustria, dunque, degli padroni, degli industriali, ci saranno scioperi durissimi, la battaglia delle Mondine a Vercelli. Ci saranno dunque, dunque, grandissime tensioni e il navigatore in queste acque burrascose e tempestone sarà appunto Giovanni Giolitti, il quale però non riuscirà a fare quello che non avrebbe forse mai voluto appunto fare. Non riuscirà a impedire l'Italia di entrare in guerra, perché il suo governo cadrà, cadrà l'anno prima e i governanti successivi, i governanti italiani dopo Giolitti, sceglieranno l'ingresso nella grande guerra, la prima guerra mondiale, che per l'Italia sarà, comunque, dal punto di vista delle vite umane, dei disequilibri economico-sociali e politici decisiva, nonché dopo la prima guerra mondiale l'Italia liberale entrerà in crisi irreversibile, dopo un tentativo di insurrezioni di stampo comunista e socialista ci sarà l'avvento bienio nero del fascismo. Ma vediamo noi, dunque, prima di vedere Giolitti, lo vedremo domani, la crisi di fine secolo. L'Italia liberale crispina crolla ad adua, ma abbiamo detto essere quella crispina un'Italia liberale autoritaria. Crispi governa con modello su modello bismarchiano, lacrime, sangue, forza e dunque atteggiamento antisindacale, antisocialista, anticristiano sociale, dunque ci sono delle leggi speciali contro la libera stampa, contro la libera associazione. Il governo di Crispi, però, non riesce a reggere l'onda d'urto della sconfitta di adua ed è costretto, appunto, tale governo a dimettersi. Cosa accade? L'Italia è divisissima nel Parlamento tra una minoranza, la prossima è più numerosa e combattiva, di deputati socialisti, che vengono visti come deputati portatori di instabilità, insurrezione, rivoluzione, va bene, nonostante abbiano scelto la via del Parlamento, dunque la via delle riforme, i deputati socialisti sono visti come pericolosi, una minaccia. Dunque, un Parlamento molto, molto anche riottoso, molto, molto infuocato, dove ci sono appunto i socialisti, dove ci sono i liberal progressisti, Zanardelli, Giolitti, e poi dove ci sono, non sempre così compatti, spesso anzi divisi, i conservatori, tra chi è più, diciamo, moderato e chi è un conservatore proprio forte, un arduo conservatore. E dopo la caduta di Crispi, il Parlamento prende la via del conservatorismo e il governo va nelle mani di Rudini, ok? Rudini, faccio vedere la foto, vedete un po' immagini anche dei governanti italiani, ok? Rudini, ok? Il governo Rudini, Rudini presiede il nuovo esecutivo italiano, è un governo appunto conservatore, talmente conservatore che uno dei collaboratori di Rudini scrive addirittura un articolo durissimo in cui dice basta con l'interpretazione liberale e democratica dello statuto albertino, si tratta di Sonnino, segnatevi questo nome, perché Sonnino sarà il ministro degli esteri quando, ok, l'Italia entrerà in guerra. Sidney Sonnino, Sonnino, scriverà quando Rudini prenderà il potere, cioè diventerà premier, primo ministro, Sonnino scriverà torniamo a interpretare lo statuto albertino non in maniera liberale e democratica, ma in maniera più rigida, in maniera più conservatrice. Lo statuto albertino che diceva ragazzi? Lo statuto albertino è civica, che il Parlamento, Camera Alta, Camera Bassa, Camera dei Cumi, Camera dei Lordi, Camera elettiva e Camera Regia, fa le leggi, ma il governo è espressione della nomina del re. Ma da cavuri in avanti, come si è interpretato albertino? In questo modo. Il governo viene affidato ad uno dei leader della coalizione che ha vinto le elezioni. Invece Sonnino dice per evitare che i governi siano sottoposti alla maggioranza del Parlamento, facciamo così, il Parlamento fa le leggi e non vota la fiducia o sfiducia al governo, perché i governi nascono e cadono. E prima c'è il governo dei preti, poi c'è il governo Crispi, poi cade il governo e poi ne c'è un altro. I governi nascono e muovono troppo facilmente, perché il Parlamento, che è il cuore della democrazia, sta diventando liberale, sta decidendo, può decidere se dare vita, fiducia, o dare morte e sfiducia a un governo. Facciamo così invece, il governo è nominato dal re e governa fino a quando il re non lo sfiducia. E il Parlamento invece fa le leggi, legislativo al Parlamento, e invece l'esecutivo al re. Invece l'Albertino, che è un futuro poi anche, no, statuto democratico, se introdotto in questo modo, ti dice, si scelgono i rami del Parlamento, va al governo la coalizione che ha vinto le elezioni. Dunque per governare devi avere la maggioranza del Parlamento. Centrodestra o centrosinistra devono esserci comunque i numeri di fiducia. Sonnino dice, torniamo al governo, all'esecutivo nelle mani del re. Vi fa capire qual è l'epoca del dibattito, va bene? I conservatori danno vita a un esecutivo. I conservatori hanno quale prospettiva? Quella di governare l'Italia che sta cambiando, dinamismo sociale, scioperi, manifestazioni, associazioni culturali, giornali, riviste, è chiaro, sindacati, partiti, stringendo le libertà, chiudendo gli spazi democratici. La democrazia, poi quella sociale, quella di giustizia, libertà, spaventa questa classe dirigente che di notabili, che di imprenditori, notai, avvocati, che di appunto uomini di banca, uomini della confin... sono uomini di potere politico reale e materiale e di fronte a questi cambiamenti si arroccano sul conservatorismo. 96, 96, 98. Sta governando, 96 Fisch e Crispi, fino a 96 Cerudini, nel 98 cade qualcosa di molto, molto importante. Nel 98 una crisi agricola sconvolge l'Europa, in modo particolare anche l'Italia, perché c'è un cattivissimo raccolto. Sono gli anni delle grandi migrazioni di noi italiani sulla nave in terza, quarta classe, con una borsa, con una valigia di cartone, con un paio di scarpe che andiamo in tutte le parti del mondo, ricordiamocelo sempre, che dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Sicilia, dalla Campania, dal Veneto, dal Piemonte, si va in giro per il mondo, in Belgio, in Germania, in Svizzera, in Australia, in Argentina, Centro America, cioè gli italiani, in questo periodo, stanno comunque anche esodando, stanno andando via, in cerca di fortuna. Sono migranti economici, nel dibattito attuale, così verrebbero chiamati. In quest'Italia, molto povera, una crisi agricola, come questa, cerearicola, e sapete che alla fine i cereali sono la base dell'alimentazione della maggior parte degli italiani, poveri, questa crisi è devastante, perché si abbina, nel caso della storia, ad una crisi anche, tra Spagna, AME, Stati Uniti e Cuba, e dunque c'è un embargo, ci sono tensioni, non arriva neanche il grano americano. Il grano americano, coltivato in alcune aree dell'America, ancora con la schiavitù, nonostante Lincoln l'abbia abolito, ma è un'abolizione de facto, ma de jure, sopravvivono a alcuni elementi di schiavitù in stati come il Nord Virginia, il North South Carolina, la Georgia, il Mississippi, queste aree. Dunque, crisi cerearicola per il cattivo raccolto, per le cattive condizioni climatiche in Italia, in Spagna, o nella Francia regionale, in più, blocco delle importazioni, del grano, dei cereali americani, carestia in alcune aree dell'Italia, o comunque, mancanza di pane, e ma quando i cereali sono pochi, manca il pane, e il pane dunque, va come prezzo alle stelle. Cominciano nella Romagna, in Emilia, va bene, a essere in Campania, a Napoli, ad esserci dei moti per il pane, ragazzi, i moti per il pane, quello che abbiamo visto non scoppiare nella Francia renozionaria a fine Settecento, quello che abbiamo visto ancora scoppiare in qualche aree dell'Europa, perché? Perché le condizioni di vita materiali sono durissime, l'indigenza, ok, è veramente prevalente nel mondo contadino, eh, il mondo contadino, ricordate, conduce delle vite terribili, durissime, è chiaro, il pane costa tanto, i moti del pane, e a Milano, la manifestazione è grandissima. in questa manifestazione di popolo, uomini, donne, ci sono anche gruppi organizzati politici, ma non è una manifestazione organizzata da gruppi politici, ma è cavalcata anche da gruppi politici, ci sono socialisti, socialisti e politici all'epoca sono la stessa cosa, in Italia, si può essere più socialisti, più rivoluzionari, più moderati, ci sono anarchici, ci sono anche repubblicani, democratici, ma c'è tanta gente comune. Bava Beccaris è il generale addetto al mantenimento dell'ordine, è il generale di piazza, perché cosa fa il governo? Manda l'esercito, non manda soltanto i carabinieri o le forze dell'ordine legate appunto alla città, ok, ma manda direttamente che cosa? L'esercito, le forze dell'ordine italiane si stanno costituendo in quegli anni, dunque sono tutti i corpi che ci sono adesso, è chiaro, manda l'esercito e Bava Beccaris consultando il governo e il capo delle forze armate che comunque è il re decide di sparare sulla folla e reprimere il moto per il pane, più di 100 morti, oltre 500 feriti, tra i morti ci sono anche appunto donne, bambini. Io lo racconto sempre questo episodio ai miei ragazzi, ai miei studenti, potete capire di cosa stiamo parlando, c'è moti per il pane e non c'è un'arretata, degli arresti, qualche scontro, ci sono i cannoni, i fucili dello Stato ok, in campo e vengono uccise più di 100 persone, provate a capire il peso. Ovviamente in Parlamento oggi si dice Di Maio, Tonelli, venite a riferire quello che è successo. All'epoca i ministri dovevano riferire al Parlamento quanto è accaduto e sui fatti di Milano in Parlamento si picchia. Adesso vedete qualche volta che il presidente della Camera del Stato deve interrompere le discussioni, arrivano appunto gli assistenti parlamentari che possono anche addirittura portare fuori uno può anche se è sospeso un giorno dei giorni dal Parlamento perché hai insultato, hai alzato le mani. All'epoca gli scontri fisici anche in Parlamento c'erano ma di cosa stiamo parlando? Adua miliardi di morti le discussioni diventano appunto durissime e qua scontri durissimi dunque di nuovo difficoltà in Parlamento e qua Giolitti e Zanardelli i due liberal progressisti nei loro interventi i socialisti intervengono furenti buttano però delle riflessioni importanti e dicono a Rudini e ai conservatori e ai razionari per quegli aspetti guardate che questa situazione non è gestibile con i colpi di cannone Zardelli di rilogare che aveva depenalizzato il relato di sciopero va bene qua si sta tornando invece a reprimere gli sciopero reprimere la situazione di riempire le carceri e i giorni dopo i moti del pane vengono chiuse associazioni di socialisti e addirittura associazioni cattoliche c'è il governo lo riassumo tutto usa il pugno di ferro è tutto chiaro ragazzi e ragazze pugno di ferro ma questo governo in questa discussione con questa tensione non regge Rudini cade il governo Rudini finì nuovo governo ancora un governo matrice tendenzialmente più conservatrice però meno di Rudini ci deve essere ovviamente un nuovo modo però però chi chiamano un piemontese che è Pellux ok che è un generale il generale appunto Luigi Pellux ok Pellux ovviamente si chi è così Pellux ok voi chi si fa francese come lo pronuncereste Pellux ok Luigi ok e questo uomo qua va bene diventa il primo ministro capite chi diventa il primo ministro un generale cioè direttamente un militare quasi una sorta di colpo di Stato no perché il generale viene nominato comunque con i voti del inchiato dal re e ha i voti del Parlamento ok e Pellux cosa è certo di fare ovviamente vuole vuole governare col pugno forte e dunque le indicazioni del Parlamento forse serve il dialogo serve capire cosa sta accadendo non vengono non vengono rispettate e il governo appunto di Luigi Pellux nuovamente si muove nell'ottica della repressione Parlamento ostruzione vuol dire che i parlamentari per impedire a Pellux di attuare leggi antisindacali contro lo sciopero arresti preventivi scioglimento delle associazioni chiusura delle sedi dei lavoratori per impedire questo cominciano a esserci atteggiamenti di ostruzione cioè gli interventi fiume cioè parlamentari che parlavano ore tutti che insegnano a parlare ogni giorno si chiama spesso tagliola vuol dire metti un limite massimo di interventi e poi decidi che dopo quello bisogna votare all'epoca non c'era ancora questa cosa dunque tutti si scrivono a parlare ogni volta che c'era un provvedimento da prendere tutti in Parlamento gli oppositori volevano parlare durava delle notti giorni le discussioni è chiaro ma questo dovete prendere come una fotografia della difficoltà dell'Italia a capire che il mondo sta cambiando che ci sono le mondine che ci sono i metalmeccanici che ci sono i disoccupati che c'è un paese analfabeta che c'è un paese povero che c'è un paese che deve avere ferrovie c'è un paese senza infrastrutture pensano di governare ancora come se fossimo a fine settecento prime ottocento dove l'esecutivo i generali gli ufficiali i governi di governo riescono sempre a mantenere in equilibrio un poco un poca carota e tanto bastone questo non riesce più perché la gente sta andando a lavorare ci si incontra i discorsi abbiamo già fatto nelle fabbriche nei campi sta crescendo la coscienza Kripp e Hegel e Marx insieme ci sta crescendo una coscienza dei lavoratori dei cittadini è chiaro il governo Pellux non regge velocemente Crispy Rudini Pellux ok e arriviamo poi al nuovo dunque governo siamo nel 1900 e il governo Umberto I decide di darlo a Giuseppe Saracco 1900 Giuseppe Saracco ascoltate bene Giuseppe Saracco questo omino magro come vedete ha l'incarico di farmare un governo riceve l'incarico questo governo Umberto I gli dà l'incarico deve provare a mediare dopo due governi di pugni di lacrime e sangue di cannoni Rudini Pellux dovrebbe Saracco provare a attuare qualche riforma cioè di apertura della partecipazione politica ma non riesce a farlo perché nell'estate del 1900 per l'esattezza il 29 di luglio questo uomo questo uomo questo uomo Gaetano Bresci italiano in America italo-americano è stato è stato indicato dal gruppo anarchico di appartenenza americano come colui che deve tentare l'omicidio degli omicidi l'attentato degli attentati uccidere il re d'Italia e Gaetano Bresci si imbarca sulla nave dagli Stati Uniti parte arriva in Italia e quel giorno del 29 di luglio quando a Monza Umberto I con sua moglie sta salutando il popolo dalla folla con la sua pistola Gaetano Bresci spara e uccide il re e lo uccide perché ti uccido come tu hai ucciso le persone che avevano il pane due anni prima una roba impassionante Gaetano Bresci allora è una novità no no perché gli anarchici hanno la tecnica dell'attentato ad hoc del responsabile politico non la strage metto una bomba qua chi passa salta ma gli anarchici sul pensiero anarchico ci torno quando faccio anche Marx gli anarchici pensano che uno strumento di lotta sia l'attentato terroristico mirato colpendo generali ministri re governanti ufficiali generali appunto resi responsabili di represso del popolo o uccidere per innescare la rivolta uccidiamo il re e scatterà la rivolta non scatta la rivolta c'è gioia nel mondo anarchico nel mondo radicale per questo sì ma i socialisti non condividono questa linea perché non si cambia un regime uccidendo un uomo si cambia un regime con la rivoluzione e dunque i socialisti i comunisti non appoggiano questo tipo di modalità invece gli anarchici pensano che un attentato possa innescare un processo riluzionario però quello che voi dovete capire ragazzi che c'è talmente tensione che due anni prima lo Stato cannoneggi i suoi cittadini per il pane due anni dopo un italo americano ok viene in Italia riesce quello che non riuscirà ad altri ma diversi sovrani russi sono stati uccisi sì sì sarà uccisa sarà ucciso ovviamente Francesco Ferdinando Arciduca da Austria in Bosnia e Zegovina e scoppia la prima guerra mondiale cioè l'omicidio politico non la strage è una modalità di lotta diffusissima ci sono ministri generali teste coronate che saltano con l'uccisione voi capite che tutto ciò è veramente una spia rossa che si è accesa l'Italia sta precipitando in un conflitto ma quella è ovviamente potremmo dire sono i sintomi di che cosa e torniamo a noi arriviamo i protagonisti i liberali progressisti Zanardelli Giolitti due di cui vi parlo sempre in Parlamento dopo questo ha tentato dicono no stato d'assedio no regime poliziesco militare c'è un unico modo dare vita ad un governo di riforme oggi oggi accadesse una cosa simile è difficile probabilmente avere due voci nitidamente lucide come Zanardelli e Giolitti ve lo ripeto sull'onda di questo attentato poteva scattare la nascita di un governo ancor più reazionario nazionalista securitario poliziesco militare di destra invece il Parlamento ascolta la voce di Zanardelli di Giolitti e il figlio di Umberto I Vittorio Monone III colui che poi ahimè gravi errori commetterà la prima guerra mondiale a cui ci manda il primo ministro dato a Unito Mussolini e l'onta delle onte le leggi razziali firmate qui Vittorio Emanuele si vede che da giovani si è più magari aperto a libertà di che da vecchi qui dice diamo vita a un governo di moderato cambiamento di moderate libertà in Italia e dunque viene dato l'incarico di formare il governo a lui a Zanardelli colui che aveva emanato già durante la lista storica il codice Zanardelli che porta il suo nome con grandi mi hanno detto elementi di libertà su divorzio adozioni hanno visto sciopero ok e diventa primo ministro dunque un liberale progressista dopo l'omicidio del re si faccia domanda sul perché l'avete capito perché a un certo punto capiscono così sembra sia il re e soprattutto intuiscono Giolitti e Zanardelli che la via da prendere è quello di riformare l'Italia nel grande cambiamento e non chiudersi in una sorta di muro che dica no all'apertura a nuove forze sociali ragazzi i socialisti i cattolici diciamo che è molto semplice non possono rimanere per sempre fuori dalla storia dell'Italia perché sono le due fazioni più popolari in crescita e non è un caso facendo un salto durante 50 anni che noi siamo appoggiati una repubblica con una doppia matrice quella cristiano-cattolica e quella socialista-comunista che non è più quella dell'Italia di Berlusconi di Renzi di Salvini di Di Maio quell'Italia lì è durata 50 anni dal 1945 ai primi anni 90 abbiamo vissuto in un'Italia in cui la matrice di fondo era il socialismo il cristianesimo va bene con alcuni elementi di repubblicanesimo dalla crisi della prima repubblica è nata una nuova Italia un'Italia veramente io ti la chiamo un'Italia che è una macedonia che è una dite voi una frittata incomprensibile nel senso che oggi destra-sinistra liberale progressista non si capiscono più questi termini perché gli stessi protagonisti non li usano più si ricollocano ogni volta in un'era diversa dunque non sappiamo neanche più bene quali sono le matrici politiche in realtà ci sono più andando avanti ci torniamo perché si può ancora distinguere bellissimo anche oggi destra-sinistra si può distinguere chi è progressista che è conservatore ma c'è altra lezione ho gli ultimi sei minuti per chiudere e cosa vi dico il primo governo che nasce è questa svolta è il governo Zanardelli ma chi compare in questo governo come ministro Giovanni Giolitti Giovanni Giolitti un uomo che è nato a fine anni 40 nell'ottocento dunque un uomo che era ragazzo quando c'è stato il ciclo risorgimentale un uomo di Tronero siamo qua nella provincia di Cuneo un uomo che ha fatto una serie di studi per diventare un buon amministratore un uomo che conosceva la macchina burocratica statale un uomo che sapeva maneggiare questa cosa è una parola fondamentale che capiate sapeva maneggiare il potere lui non era in vista non era il più in vista Zanardelli era molto più abile anche a parlare era anche intellettualmente più raffinato era un piacere ascoltare il liberale Zanardelli lui era il più un uomo nell'ombra ma conosceva le istituzioni dunque era un uomo cresciuto le istituzioni conosceva le istituzioni e diventa ministro degli interni ministro degli interni carica il ruolo che ricopre oggi Salvini che il governo precedente ricopriva Minniti è il ministro che ha il compito di governare l'ordine pubblico è quello che si occupa di ordine pubblico lui è quello che di fatto ha sotto di sé il comando di polizia di carabinieri è colui che deve occuparsi di ordine pubblico e purtroppo l'ordine pubblico è sempre inteso come repressione sicuritaria si potrebbe fare dell'ordine pubblico attraverso politiche di inclusione giustizia e benessere perché io continuo a ripetere dove c'è una città un quartiere sviluppo benessere ambienti spazi di delinquenza ce n'è molto di meno tendenzialmente più c'è povertà più chiaramente ci sono disoccupazioni più c'è disagio più aumenta la criminalità noi spesso sentiamo ordine pubblico come ordine cioè intervengo impongo l'ordine con la repressione giuglitti diventa ministro di interni capite non è casuale a un uomo che vuole dialogare viene dato l'incarico di ministro di interni e cosa fa tra le prime cose fa proprio questo dice che non bisogna temere nulla dello sviluppo delle organizzazioni operai e contadine anzi che più gli operai e i contadini si organizzano più noi sappiamo chi sono e cosa vogliono più loro pubblicano giornali riviste più loro si radunano più possiamo dialogare sappiamo con chi dialoghiamo la rovescia ancora noi possiamo evitare l'insurrezione la rivoluzione lo scontro in maniera più facile se riconosciamo l'altra parte con una parte con cui dialoghiamo e dunque Giolitti comincia a dire lo sciopero sì con delle regole chiaro non lo sciopero no e con lo sciopero si va dritti in prigione va bene e dunque libero svolgimento degli scioperi la reazione dei reazionari sapete qual è è di totale accusa di rovina dell'Italia Giolitti e Zanardelli ci stanno portando dritti nella bocca della rivoluzione dei socialisti del mondo contadino insurrezionale ma cosa succede alcuni gli diranno ok no ma quali aumenti ma quali aumenti salariali ma quale riduzione dell'ora di lavoro e Giolitti che è disposto a ascoltare il tema dell'ora di lavoro risponderà in Parlamento che forse prima di parlare delle condizioni dei contenuti degli operai invece dei liberali conservatori loro dovrebbero andare a fare gli operai contadini lo dice un uomo che è un liberal moderato oggi in Parlamento non c'è un liberal moderato che va a dire senti ma prima di dire che andiamo in prima di 68 anni provi tu stare a 66 tu donna con 25 bambini alle elementari provi tu stare donna quella che vuole fare Fornero o altri che è un ministro o giornalisti stare c'è un problema di conti pubblici molto grande in Italia dunque è un tema complesso ma ci sono alcuni lavori usuranti sono in catena di montaggio ok ad esempio che fatti a 67 anni sono veramente duri oggi un giolitti potrebbe dire provate voi a fare quel lavoro vi ripeto viene a punto di se è socialista se è un comunista il comunista di Doro Nero lui era un liberale che dice proviamo a fare queste riforme va bene questo governo Zanardelli poi termina il suo ciclo e il governo successivo sarà preseduto da Giolitti vediamo i tre governi Giolitti che si susseguono con degli intervalli di un anno e mezzo gli uni dall'altro quando Giolitti non poteva più governare sceglieva la via delle divisioni non si fece mai sfiduciare piuttosto di farlo sfiduciare io mi dimetto mi dimetto cerco nuove possibilità per fare un governo e ritorno in sella grazie a tutti